Non sapevo cosa cercasse Mona, se era la stessa cosa che cercavo io. Uccidere quelli che stavano cercando di ucciderla. Il proiettile in testa, però, immaginario che fosse, le provocava una distorsione neurale. Era arrivata al cantiere mentre io ero in un edificio abbandonato. Non sapevo cosa le stava accadendo. Max, sono al cantiere. Dove sei? In un edificio abbandonato, lato cantiere, diretto al piano di sopra. Sono dal lato sbagliato, cerco di raggiungere il tetto per una visuale migliore. A dopo, credo stiamo partendo le danze. Non perdere il ritmo. Ok, così ci stiamo spezzando la schiena per portare qui l'attrezzatura e tra poco l'edificio salterà in aria. Ma che cosa facciamo con i cadaveri? Non spariranno nel nulla quando l'edificio esploderà. Sarà un bel macello. Ci peserai il capo. Per queste cose ho una mente diabolica. Ma... Noi, non sarà fuori! Noi, non perdere la prominent Within Tenaya. Noi, non serve la sentenza di QTSK. Come il per ilo! Noi, non fermi! Noi, non quindi non asquer f Đây Oton... Nonaving la channe. Nona pazza risposta. Noi, non increased. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.